Nelle puntate precedenti Prodotti Saltermiati ingredienti Sto arrivando Questi sono gli uffici Deborah Il mondo dei balocchi Volevo parlarti di questa ricerca che hanno fatto in Giappone C'è questo polisaccaride che si chiama pullula E che se noi lo associamo con delle cere naturali Possiamo ottenere le performance che desideravamo Ci vuole un'autorizzazione scritta per queste cose Ho un'idea Sto aspettando che Cristina mi chiami Ok Sto arrivando Ok Ok Ma dove devo andare? Il montacarichi Ok sto arrivando Cristina Ehi si sto scendendo a meno uno Ma ascolta esattamente dove ci vediamo Pronto? Cristina Pronto? Pronto? Cristina 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 Andiamo dai Ok Ma dove stiamo andando adesso? Cosa è? Ma se Andiamo Quindi cosa facciamo adesso? Cominciamo Cosa? Devo mettere addirittura Ok Cominciamo So E Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono esausta. Siamo qui, praticamente abbiamo passato tutta la notte. Credo che siamo giunti, almeno, è giunta ad un ottimo risultato. Cosa stiamo aspettando, Cristina? Stiamo aspettando che finisca il processo. Ancora voi? Vi avevo avvisato e ora devo chiamare il direttore. Sì, buongiorno direttore. Può scendere per cortesia? Sì, esatto. La ringrazio. Nella prossima puntata. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo polisaccaide ricavato da un lievito. Sì, buongiorno direttore. Sì, buongiorno direttore.